Il prezzo all'oncia per dollari ovviamente dell'oro scenderà sotto 1200 dollari, risposta numero 1. Sarà compreso tra i 1200 e i 1300 dollari, risposta numero 2, salirà oltre i 1300 dollari l'oncia. Potete iniziare a votare. L'esito è? Ah, eccolo qua. Allora, salirà oltre i 1300 dollari l'oncia, lo pensano il 41% di voi, il 32% pensa invece che scenderà sotto i 1200 e sarà compreso invece fra questi due range il 27% di voi.